La minoranza ha fatto fare tutto alla maggioranza. Un Consiglio Comunale è convocato con lo scopo di lasciare in otto l'amministrazione Marrano, però è andato a vuoto. La sfiducia al Presidente del Consiglio, Carmen Spera, non è passata e chi la richiesta, cioè la minoranza, dopo la discussione a porte chiuse, come previsto dal regolamento comunale, ha abbandonato l'aula. Questo non è stato altro che un assist per la maggioranza che ha approvato all'unanimità e quindi da sola gli altri punti all'ordine del giorno. Durante il mio mandato, ha affermato il primo cittadino Paolo Marrano, Margherita è stata ripristinata alla festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale del 4 novembre. Ci sono state tante altre manifestazioni come la consegna della bandiera blu a cui nessuno dei consiglieri di opposizione si è mai degnato di prendere parte. Questi signori, ha concluso lo stesso Marrano non solo non meriterebbero di ricoprire la carica di consigliere comunale, ma non meriterebbero neanche di essere cittadini salinari.